Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, Amen. Sia lodato Gesù Cristo, sempre sia lodato. Ave Maria, i Sacri Cuori di Gesù, di Giuseppe e di Maria, siano sempre con tutti noi. Benvenuti cari fratelli e sorelle, oggi martedì della settima settimana del Tempo Ordinario. Continuiamo con le letture. La prima lettura, dal Libro del Cheletto. C'è un tempo per ogni cosa. Per ogni cosa c'è il suo momento, il suo tempo per ogni faccenda sotto il cielo. C'è un tempo per nascere e un tempo per morire. Un tempo per piantare e un tempo per sradicare le piante. Un tempo per uccidere e un tempo per guarire. Un tempo per demolire e un tempo per costruire. Un tempo per piangere e un tempo per ridere. Un tempo per gemere e un tempo per ballare. Un tempo per gettare sassi e un tempo per raccoglierli. Un tempo per abbracciare e un tempo per astenersi dagli abbracci. Un tempo per cercare e un tempo per perdere Un tempo per serbare e un tempo per buttar via Un tempo per stracciare e un tempo per cucire Un tempo per tacere e un tempo per parlare Un tempo per amare e un tempo per odiare Un tempo per la guerra e un tempo per la pace che vantaggio ha chi si dà da fare con fatica ho considerato l'occupazione che Dio ha dato agli uomini perché si occupino in essa egli ha fatto bella ogni cosa a suo tempo ma egli ha messo la nozione dell'eternità nel loro cuore senza però che gli uomini possano capire l'opera compiuta da Dio dal principio alla fine ho concluso che non c'è nulla di meglio per essi che godere e agire bene nella loro vita ma che un uomo mangi, beva e goda del suo lavoro è un dono di Dio riconosco che qualunque cosa Dio fa è immutabile non c'è nulla da aggiungere, nulla da togliere Dio agisce così perché si abbia timore di Lui ciò che è già è stato, ciò che sarà già è Dio ricerca ciò che è già passato ma ho anche notato che sotto il sole al posto del diritto c'è l'iniquità e al posto della giustizia c'è l'empietà ho pensato Dio giudicherà il giusto e l'empio perché c'è un tempo per ogni cosa e per ogni azione poi riguardo ai figli dell'uomo mi son detto Dio vuol provarli e mostrare che essi di per sé sono come bestie infatti la sorte degli uomini e quella delle bestie è la stessa come muoiono queste muoiono quelli c'è un solo soffio vitale per tutti non esiste superiorità dell'uomo rispetto alle bestie perché tutto è vanità tutti sono diretti verso la medesima dimora tutto è venuto dalla polvere e tutto ritorna nella polvere chissà se il soffio vitale dell'uomo salga in alto e se quello della bestia scende in basso nella terra mi sono accorto che nulla c'è di meglio per l'uomo che godere delle sue opere perché questa è la sua sorte chi potrà infatti condurlo a vedere ciò che avverrà dopo di lui responsorio il tempo ormai si è fatto breve d'ora innanzi chi vive in questo mondo se ne serva con discrezione perché passa la scena di questo mondo ogni cosa ha il suo momento il suo tempo per ogni impresa sotto il cielo perché passa la scena di questo mondo seconda lettura dalle omelie sull'ecclesiaste di San Gregorio di Nissa Vescovo tempo di nascere e tempo di marire vi è un tempo per nascere dice è un tempo per morire voglia il cielo che sia concesso anche a me di nascere al tempo giusto e di morire al momento più opportuno noi infatti siamo in certo modo padri di noi stessi quando per mezzo delle buone disposizioni di animo e del libero arbitrio formiamo generiamo diamo alla luce noi stessi questo poi lo realizziamo quando accogliamo Dio in noi stessi e diveniamo figli suoi figli della virtù e figli dell'altissimo mentre invece rimaniamo imperfetti e immaturi finché non si è formata in noi come dice l'Apostolo l'immagine di Cristo è necessario però che l'uomo di Dio sia integro e perfetto ecco la vera nascita nostra c'è un tempo per morire per San Paolo ogni tempo era adatto per una buona morte grida infatti nei suoi scritti ogni giorno io affronto la morte e ancora per causa tua siamo messi a morte tutto il giorno e proprio in noi stessi portiamo la sentenza di morte è chiaro poi in che modo Paolo muoia ogni giorno egli che non vive per il peccato ma mortifica il suo corpo e porta sempre in se stesso la mortificazione del corpo di Cristo ed è sempre crocifisso con Cristo lui che non vive mai per se stesso ma porta in sé il Cristo vivente questa secondo me è stata la morte opportuna che ha dato la vera vita infatti dice io farò morire e darò la vita perché ci si persuada veramente che è un dono di Dio essere morti al peccato e vivificati nello spirito la parola di Dio infatti promette la vita proprio come effetto della morte prima di responsorio ripeto questa ultima parte di questa lettera di San Gregorio di Nissa meravigliosa cari fratelli e sorelle io farò morire e darò la vita questo viene dal Deuteronomio 32-39 perché ci si persuada veramente che è un dono di Dio esser morti al peccato e vivificati nello spirito e vivificati nello spirito la parola di Dio infatti promette la vita proprio come effetto della morte responsorio sono io che do la morte e faccio vivere io percuoto e guarisco e nessuno può liberare dalla mia mano io ho potere sopra la morte e sopra gli inferi e nessuno può liberare dalla mia mano bene fratelli e sorelle abbiamo concluso anche questa giornata grazie a Dio dell'ufficio delle letture Dio vi benedica sia lodato Gesù Cristo e Ave Maria grazie a Dio